amici del mio oggi a new york andiamo a vedere un po di cose per halloween ecco qua amici abbiamo il frank n cup che dovrebbe ricordare guardatelo frank style poi qua abbiamo delle bellissime collezioni di hershey con la zucca qua questi qua praticamente servono per fare dolcetto scherzetto e ci sono diversi cioccolatini è un pacco immenso madonna questi qua sono fantastici molte cose le trovate su jerry america punto com anche questi ragazzi sono belli tutti gli snack del mondo madonna quanto è buono questo pina spada da mettere sulle fette biscottate anche questi pacconi immensi nuggets i kitkats pulporini questi sono fantastici questi anche riusciamo allora continuiamo questo nuovo viaggio dopo hershey andiamo a vedere cosa è me mens se ci pensate m mens è un nome complicatissimo da pronunciare tra l'altro sono molto vicini a usci e qui m mens e lì che bel sole cristo paese rosola no non era new york però devo dire che a new york c'è parecchio sole anche vabbè ovviamente halloween è molto sottotono quest'anno come immagino possiate capire da voi e comunque devo dire che il negozio m mens è spettacolare vediamo che troviamo qua per halloween ecco qui amici guardate che belle queste confezioni con la zucca sono proprio stupende fighissime vabbè devo dire che più di tanto non è che c'è hanno fatto veramente molto poco lo champagne di m mens per sciabolare comunque questa muraglia è veramente impegnativa come potete vedere ragazzi è veramente vuoto questa cosa in questo negozio vicino times square happy socks abbiamo addirittura i calzini dedicati a halloween se ci pensate è proprio una follia la bellezza di times square il vapore della città di new york come fosse il suo respiro continuiamo andiamo a vedere da walgreen cosa abbiamo abbiamo il rises a forma di pumpkin anche su giro america li abbiamo e completiamo con il cvs che secondo me è molto più fornito e infatti già posso vedere che c'è un po più di decorazione anche se poi credo che alla fine i prodotti siano quasi sempre gli stessi si sono molto simili sinceramente almeno abbiamo anche i goldfish e bellissimi anche i pringles edizione halloween wow la busta dei prezzers bella anche questa c'è comunque da tutti questa offerta comprano uno e te ne diamo uno gratis sembra un po più fornito guardate questi che belli non avevamo visti prima schietto al zombie ma questo sembra veramente che c'è qualcosa di misterioso dentro questi sono i miei preferiti compriamone uno e lo vediamo assieme com'è i cosi eh sono carini qual è la differenza boh uno c'ha più calorie e l'altro meno prendo questo c'ha più calorie mi piace di più calzini questo è stupendo anche proviamo tutte e due dai eccoli qua amici scattiamoli un attimo qua nel mezzo di new york scatteremo questi ve li faccio vedere li potete acquistare anche su jerry america ma questo qua non mi sembra dove c'è il sorriso della zucca scusate ma scattiamo anche questo e poi vediamo vabbè non c'è il sorriso ma assomiglia alla zucca dai eccoli qua amici io adoro il cioccolato bianco e quindi devo provarlo anzi lo spezzo così affinché possiate vedere il ripieno di questo il burro da paracchidi è veramente fantastico guardate anche questo stesso ripieno è delizioso amici vi saluto ci vediamo io ciao ciao